Il giorno più lungo, l'ultimo tratto del mare di sabbia e poi piste dure, pietraie e canyon nei quali Sergio Leone avrebbe ambientato volentieri un suo western. Quasi 900 chilometri per la nona tappa con i motociclisti a riprendere la corsa dopo la giornata di lutto per la scomparsa di Paolo González. Forte di un comodo vantaggio, l'americano della Honda Ricky Brebeck si è limitato a controllare i rivali in cerca di rimonta, concedendo quasi 4 minuti al cileno Pablo Quintanilla, pilota usquarna, che insegue nella generale a 20 minuti e 53. Più staccati di quasi 27 e oltre 28 minuti il campione uscente, l'australiano Price e lo spagnolo Barreda. Si è fatta invece calda caldissima la gara su quattro ruote. L'errore di navigazione che a inizio tappa gli è costato 5 minuti ha innervosito Carlos Sainz che nel finale, spingendo a fondo, ha distrutto la gomma posteriore destra, perdendo altro tempo prezioso. Davanti si è scatenato un bellissimo testa a testa tra Stéphane Petrancel e Nasser Elattia, Mini contro Toyota. Alla fine il francese 13 volte vincitore della Dakar ce l'ha fatta per 15 secondi, mentre il principe del Qatar si consola con il netto recupero nella generale. Sainz è ormai lì a soli 24 secondi. E con un'altra solida prestazione, nono di giornata, Fernando Alonso è riuscito a rientrare nella top 10.